Marco, e allora ti sei trasferito in Francia? Sì, sì, definitivo ormai. Proprio a Parigi? Sì, a Parigi città che ho preso una casetta. Bello, bello, bello. Senti, con la lingua come fai? Cioè, riesci a capire? Ormai un mese, proprio la padronanza e... Tu provi a chiedere una cosa e io... Toc, toc, provi? Che ti dico, non lo so. Una cosa. Eh, guarda che carino. Come? Come chiami il gatto in francese? Pss, 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 in Italia. Pss, 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 pss.